Bella ragazzi, oggi torno al Mac dopo più di un anno, ma ne vale ancora la pena? Perché non vado al McDonald da un anno? Perché ho voluto fare un reset del mio corpo, fare una dieta, che mi ha provato a perdere dai 13 ai 10 kg. Se volete sapere poi come ho fatto, scrivetemelo nei commenti, vi farò un video che vi spiego tutti i vari passaggi che ho fatto. Ovviamente mi sono fatto seguire da una persona, non ho fatto niente di mia spontanea volontà. E oggi è un anno esatto che non mangio al McDonald. Ragazzi, un anno. Quelli che dicono che non è possibile resistere, che non riesco a resistere a non mangiare al McDonald, non riesco a resistere a non mangiare cibi cosiddetti spazzatura. Non è vero, sono soltanto dei limiti mentali, ce l'ho fatta io e ce la può fare chiunque. Deve diventare un'ossessione. Oggi la mia ossessione è, mi è venuta la scimmia incredibile, voglio andare al McDonald e ci vado, chi se ne frega. Sono indeciso che panino prendere, proverò quelli nuovi, ho letto che sono buonissimi, valutiamo. Il mio parere sicuramente è importante perché è un anno che non ne mangio. Bella ragazzi, menù preso. Ho puntato al vecchio crispy baked bacon perché per me era il panino che ho sempre mangiato, per me è l'unico che a oggi è inimitabile, che nessuno può copiare. Sua maestà, quello che ha reso celebre il McDonald. Mi sembra bignon, ma è piccolissimo questa cosa. Ma era così piccolo anche l'anno scorso, non mi sembrava. Guardate che roba, è minuscolo. 8,70€ di menù per un panino che è minuscolo. Guardate la fettina di hamburger, vi prego. Bacon ce n'è, due mini fettine. No vabbè ragazzi, no così non ci siamo. Non enorme ma più grosso, non c'è niente qua dentro. 8,70€. Però il gusto rimane sempre inimitabile. Il crispy è crispy. Quel bacon che ti rimane morbido. Questa salsa che ti spacca le papille gustative perché è salatissima, però è inimitabile, madonna. Quanto mi mancava. Non c'è niente come questa cosa qua. Però è veramente mignone. Cioè ragazzi, due morse è già bene finito. Ce ne vogliono due di stia a fare per riempirsi. Non lo so ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Secondo me l'anno scorso era più grosso. Qui è un po' come quando vai dalla nonna e ti dà sotto banco i 30€ per andare a comprare il gelato. È la stessa sensazione. È una roba goduriosa. Crispi è andato. Ora passiamo le regine del McDonald's. Patatine. Questo qua è un gesto che mi mancava veramente un sacco. Ecco, questa cosa mi mancava veramente un sacco. E per non farci mancare niente, ho preso 4 chicken McNuggets. Anche queste per oggi sono ancora inimitabili. Ovviamente accompagnate con una maionese, perché la maionese del Mac è la maionese del Mac. Partiamo con i chicken McNuggets. È godurioso. Cioè non c'è niente di meglio di queste cose qua. Sono un toccasano, una dietro l'altra. Anche quelle che compie ogni tanto, ma super ammazzato, non sono così. Non hanno questa panatura, questa croccantezza, morbidezza all'interno. Perché sia morbida dentro che croccante fuori. Con la maionese poi è la morte sua. Mi sento sulla luna. E una cosa che mi mancava veramente un sacco, essendo amante delle patatine fritte, erano proprio le patatine fritte del Mac. Pensate che ne ho trovata una, pulendo la macchina, che mi è rimasta penso dentro 4 mesi. Ed era la stessa forma, lo stesso colore di questa. Cioè non è mai, non è mai ammuffita. Io non so come fanno, però queste patatine resistono nel tempo. Però su queste io vado a dire perché ce ne sono di molte, molte, ma molte più buone. Anche quelle del Burger King ai Mac, mi ricordo, sono molto più buone. Le patatine del Mac sono un po' come quella signorina del corsivo, che è cresciuta santissimo sui social, facendosi praticamente insultare dalle persone. Queste sono un po' come lei, perché non sono buone. Sono unte, non sarò di patata, sono piene di sale. Però quando ne provi una, devi mangiarle tutte. La sua schipezza sono inimitabili. Un po' molli, un po' fritte. Provano un gusto che sono uniche, ma non sono buone. Non sono buone come quelle di altre fast food. Ma se voi cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti. Per me ce ne sono dei migliori. Ragazzi, cosa dire del Mac dopo un anno? Che mi mancava, ti ritornerei. Direi di no. Non tanto perché al McDonald's, perché a 8,70 euro ci sono panini più buoni, più grossi, fatti con materie piume molto più buone. E piuttosto vado a rinunciare alle patatine, intanto patatina non è, e vado ad alzare un po' la qualità del panino. A questo prezzo, oggi è troppo caro e non ne vale assolutamente più la pena. Se poi parliamo di velocità, servizio, a oggi il McDonald's rimane il migliore. Bella regals, da me al McDonald's è tutto. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace. Se hai domande, lasciami un commento. E iscriviti al canale se ti piacciono contenuti come questo. Bella regals, al prossimo video. Ciao a tutti.